Salve a tutti, in questa seconda lezione sulla filosofia di Aristotele ci occuperemo principalmente di questo argomento, cioè la concezione del sapere. Come Aristotele intende la filosofia, qual è il suo fine, qual è il suo oggetto, qual è il suo metodo, ma soprattutto ci occuperemo delle due parole chiave di ricerca e insegnamento. La filosofia come ricerca del vero e l'insegnamento del sapere. Se avanzerà a tempo ci occuperemo anche dell'enciclopedia delle scienze, cioè del modo secondo cui Aristotele intendeva organizzare i vari ambiti del sapere in modo che formassero un'enciclopedia, appunto, cioè un sistema organizzato di conoscenze. Anche in questo caso, come nel caso della prima lezione, metterò un link nella descrizione del video che posterò su YouTube in cui saranno disponibili i materiali che utilizzerò per questa lezione. Bene, il nostro Aristotele intendeva la filosofia come un'attività che impegnava il filosofo nella ricerca della verità, ma anche nel suo insegnamento. Sono due cose strettamente collegate ed ugualmente importanti per Aristotele. Vediamo subito. Allora, parole chiave ricerca e insegnamento. La ricerca, prima di tutto, è ricerca di una conoscenza vera e, in seguito, vedremo cosa intende Aristotele esattamente per verità. È ricerca anche disinteressata della verità, cioè lo scopo della filosofia aristotelica. Non è politico come in Platone. Platone mirava a una trasformazione della società per cui il filosofo doveva educarsi ed essere educato come politico, futuro reggitore di un governo. Per Aristotele, invece, la filosofia è disinteressata. Cosa vuol dire disinteressata? Che non è uno strumento che debba servire per qualche cosa, ma è fine a se stessa la ricerca filosofica. Il suo fine è appunto quello di giungere a conoscere la verità. Più precisamente, lo scopo della filosofia è quello di costituire un'enciclopedia della conoscenza. Cosa vuol dire enciclopedia? Vuol dire che i vari ambiti del sapere, cioè le varie discipline in cui si articola il sapere, devono formare tra di loro un insieme ordinato di conoscenze, non un insieme disordinato o eterogeneo di conoscenze. Questo è reso possibile, vedremo poi in che modo, ma in questo momento ci interessa sottolineare come la fonte del sapere, cioè l'origine del sapere, sia data per Aristotele dall'esperienza, che non esaurisce il sapere, ma senz'altro qualsiasi ricerca, qualsiasi forma di conoscenza, anche quella più astrata, nasce dall'esperienza. E questo ci fa capire anche che importanza aveva per Aristotele la natura e che importanza aveva l'osservazione empirica, cioè i sensi usati come uno strumento di conoscenza attraverso l'osservazione sistematica della natura. Importante inoltre, nell'enciclopedia del sapere, cioè nell'organizzazione delle diverse discipline scientifiche, è anche la dimostrazione. Le scienze si distinguono da ciò che scienza non è, per esempio la religione, per esempio la mitologia, perché dimostrano, silogismo dimostrativo, dimostrano le proprie tesi. E la dimostrazione che cos'è? Non è una serie di affermazioni disposte a caso, a sostegno di una certa tesi, ma la dimostrazione è una organizzazione, chiedo scusa, dicevo, parliamo di dimostrazione quando le affermazioni che facciamo sono concatenate tra di loro secondo determinate regole, per cui le conclusioni a cui arriviamo sono necessarie, sono certe, devono essere accettate da tutti. Anticipiamo qui qualcosa della logica, se per esempio io scrivo tutti gli studenti sono studiosi, e poi scrivo che voi siete studenti, concludo che voi siete studiosi. Se avessi concluso che voi non siete studiosi, chiaramente questo ragionamento non sarebbe stato corretto, per cui chiunque parta da queste due premesse, necessariamente, qualsiasi cosa pensi, in qualsiasi modo si vesta, qualsiasi religione pratiche, eccetera, necessariamente deve concludere voi siete studiosi. Naturalmente voi capirete che questa affermazione è corretta, e quindi è un silogismo, ma è falsa, perché si sa che gli studenti non sono studiosi. Quindi, un silogismo, cioè un ragionamento, è scientifico quando, primo, è corretto dal punto di vista logico, e questo è corretto dal punto di vista logico, ma deve essere anche vero. E questo è falso, perché è falsa questa premessa. Tutti gli studenti non sono studiosi, voi non siete studiosi. Scherzi a parte, abbiamo visto che quindi esperienza e ragionamento logica ci danno il modello del sapere valido. Ma, per Aristotele, la ricerca è anche un confronto con i filosofi che lo hanno preceduto, prima fra tutti Platone, di cui lui fu collaboratore, e con la tradizione culturale, diciamo, che lo ha preceduto. Tant'è vero che Aristotele, nelle sue opere acroamatiche, quando tratta un argomento, prima di dire quel che pensa su quell'argomento, fa una sorta di escursus di quello che su quell'argomento hanno detto i filosofi precedenti, e dà la sua interpretazione di quello che hanno detto, sottolinea gli aspetti che condivide e quelli che non condivide di quello che hanno detto, quindi anche un confronto con gli altri filosofi è fondamentale nella ricerca. Vediamo adesso più esattamente come si sviluppava la ricerca aristotelica. Nell'ambito del liceo, la scuola di Aristotele, che poi vedremo, la ricerca era portata avanti in modo organizzato, ed era una vera e propria ricerca, che potremmo definire scientifica, che poi fa da modello a tutta quella che è la successiva tradizione, soprattutto in età ellenistica, per ellenismo si intende l'epoca che segue la formazione del grande impero di Alessandro Magno. Quindi era un'attività che veniva programmata, esistevano dei gruppi di ricerca, questi gruppi di ricerca lavoravano sul campo attraverso la raccolta di dati, i dati potevano essere piante, per esempio, oppure se la ricerca riguardava la politica, una delle scienze studiate nel liceo di Aristotele, venivano raccolti i documenti al riguardo, per esempio era famosa la collezione di 150 costituzioni, è partito questo, di 150 costituzioni che Aristotele aveva raccolto. Questi gruppi di ricerca lavoravano in modo coordinato, ma sostanzialmente autonomo, classificavano i dati. Insomma, potremmo dire, come ho scritto qui, che era un vero e proprio istituto scientifico, nel senso moderno del termine, molto differente dall'Accademia Platonica, infatti non vi erano regole religiose, non vi erano finalità politiche e morali, non si trattava di, anche se è la morale importante per Aristotele, però lo scopo della ricerca non era quello di migliorare dal punto di vista morale, di raggiungere il bene e così via, era quello di raggiungere la conoscenza, quindi nessuna finalità politica, nessuna finalità morale. Il liceo, quindi, riassumendo, nel liceo, dicevo, si praticava la ricerca per arrivare alla conoscenza della verità, attraverso indagini condotte in modo specialistico nei vari ambiti del sapere, e lo scopo finale era poi quello di, concluse le varie ricerche, arrivati ai vari principi che governavano ciascun ambito della realtà, studiato da una certa disciplina, organizzare questo sapere in una vera e propria enciclopedia. Qui vediamo raffigurato un quadro di un certo Spangenberg dell'Ottocento, in cui è intitolato, appunto, la scuola di Aristotele. Vediamo discussioni, qualcuno che fa lezione, probabilmente Aristotele è questo, seduto. Beh, abbiamo detto che questa attività di ricerca si svolgeva nel liceo. Il liceo, qui vediamo la parola originale greca, detto anche peripatos, peripatos significa passeggiata, passeggiare, vedremo poi perché, era la scuola di Aristotele. L'importanza di questa scuola la possiamo capire dal fatto che tutt'oggi noi chiamiamo liceo, il corso, il curriculum degli studi superiori dell'istruzione, insomma, l'istruzione secondaria superiore. Questa immagine, questa è una foto delle rovine del liceo ad Atene, non è rimasto molto. Il liceo viene fondato nel 335 a.C. da Aristotele e sarà destinato a diventare la più importante scuola filosofica del suo tempo. Aristotele era appena tornato, secondo alcuni, era appena tornato da Pella, dalla corte macena, dove era stato educatore di Alessandro, con l'appoggio di Alessandro, a per una scuola. Questa scuola si chiama liceo perché era situata alle pendici, alle falle di un monte, una collina, il Licabetto, dove c'era un bosco, in questo bosco c'era un tempio sacro ad Apollo. L'attributo di questo Apollo era l'Apollo-Licio, perché? Perché questo culto di Apollo proveniva dalla Licia, regione della Turchia, quindi Apollo-Licio, quindi Licio, quindi liceo. Era una scuola filosofica, abbiamo già detto che non aveva finalità politico-religiose, ma scientifiche e didattiche. Infatti queste erano fondamentalmente le sue finalità, insegnare e fare ricerca. Era una scuola dotata di ampie strutture. Bisogna dire una cosa, Aristotele era lo scolarca, ma non era il proprietario della scuola, lo sarebbe anche potuto essere, non gli mancavano i fondi, anche dato l'appoggio di Alessandro Magno, che lo aiutò e lo sostenne, però era un meteco, cioè era uno straniero, e in quanto straniero, pur potendo praticare attività di qualsiasi tipo, non poteva essere proprietario. Quindi, detto questo, torniamo alla nostra biblioteca. Ci accorgiamo che assomiglia a un moderno istituto scientifico, anche perché possedeva una biblioteca. Inoltre esisteva un museo, un museo di storia naturale, con raccolte botaniche, zoologiche, una collezione di carte geografiche, una raccolta di 150 costituzioni, insomma, disponeva di strutture, se non di veri e propri laboratori, certamente di strutture che aiutavano gli studiosi a portare avanti la loro attività sia di ricerca che di insegnamento. Anche in questo caso il liceo sarà il modello dell'organizzazione del sapere e del futuro. La più famosa città ellenistica, Alessandria, in Egitto, così chiamata, perché fondata da Alessandro Magno, quando conquisto l'Egitto, che diverrà il centro culturale più importante del mondo antico, ancora in epoca romana, sarà organizzato sul modello della scuola di Aristotele, del liceo, con una biblioteca, un museo, eccetera. Quali erano le discipline che si praticavano? Tutte quelle più importanti di allora, l'astronomia, la logica, la zoologia, la botanica, la psicologia, eccetera, eccetera, avremo poi come queste discipline avevano una precisa organizzazione. Abbiamo parlato già anche delle attività, sottolineiamo ancora una volta questo fatto, queste attività erano basate in queste attività, l'esperienza aveva un ruolo, la ricerca e l'insegnamento avevano un ruolo fondamentale, l'esperienza, e venivano svolte in modo integrato, in modo parallelo. Bene, passiamo adesso a esaminare il modo in cui si praticava l'insegnamento, cioè la didattica. Aristotele teneva delle lezioni. Queste lezioni, prima di tutto, è importante dire, l'ho anche scritto, dimenticavo di dirlo, che per Aristotele era fondamentale l'insegnamento, ed egli dedicava molto del suo tempo all'insegnamento, quindi non si dedicava unicamente alla ricerca, si dedicava alla ricerca, ma si dedicava anche all'insegnamento, aiutato dai suoi studenti migliori, che col passare degli anni diventavano suoi collaboratori. Lo strumento principale era la lezione, quella che poi farà chiamata lezio, la lezione orale. Al mattino Aristotele teneva delle lezioni che potremmo definire con una parola moderna seminari, cioè gruppi di studio in cui si trattavano argomenti molto complessi di logica, di filosofia, di fisica, cioè di quelle che poi vedremo sono le scienze più importanti per Aristotele, le scienze teoretiche, a cui teneva di più perlomeno, e al pomeriggio invece le lezioni su discipline più semplici, aperte a un maggior numero di persone, come la retorica, l'etica e la politica. Ma da quello che ci dicono le fonti, da quello che lo stesso Aristotele scrive, possiamo anche sottolineare quelli che furono i principi pedagogici a cui si ispirava il liceo, Aristotele, diciamo, nella sua attività di insegnamento al liceo. Prima di tutto, primo principio fondamentale, ciò che conta è certamente imparare i contenuti di ogni disciplina, ma la cosa più importante ancora è imparare il metodo di quella disciplina. In questo modo si arriverà all'autonomia e in questo modo da studenti si diventerà ricercatori, da studenti di filosofia, filosofi. Quindi non la conoscenza dei contenuti, ma apprendere lo specifico metodo di indagine relativo a quel determinato argomento, a quel determinato campo. E qui c'è dietro una convinzione molto forte di Aristotele che lo distingue da Platone. Non esiste un metodo universale come pensava Platone. Platone pensava che la dialettica fosse il metodo del filosofare, anzi fosse il filosofare in quanto tale, e che scienza e dialettica coincidessero. Non esiste invece, secondo Aristotele, un unico metodo valido che possiamo applicare in qualsiasi campo dell'esperienza, in qualsiasi campo della natura. Il metodo varia al variare dell'oggetto che studiamo. La matematica che studia la quantità avrà un metodo. L'etica che studia il comportamento avrà un altro metodo, perché è differente il loro oggetto. Necessario quello della matematica, solo possibile quello della morale, dell'etica, il comportamento. Quindi, autonomia delle discipline è importanza dell'apprendere il metodo specifico di ogni disciplina. Secondo punto, partire non dall'astratto verso il concreto, oggi si direbbe dall'alto verso il basso, ma partire dal basso verso l'altro, cioè da ciò che è per noi più semplice per arrivare a ciò che è più complesso. E quindi partire da ciò che è più semplice, cioè partire da ciò che è più vicino alla nostra esperienza. L'apprendimento procede quindi dal semplice al complesso, da ciò che viene prima per noi, con prima per noi si intende che è più vicino a noi, a ciò che è primo di per sé o per natura, cioè a ciò che è più importante, che è più complesso, che quindi è più lontano da noi, ma è più importante dal punto di vista naturale. Anche questo ci fa capire come sia l'insegnamento e l'apprendimento che la ricerca debbano per Aristotele nascere da un confronto continuo con l'esperienza. Altra differenza con Platone. Quindi anche il pensiero più astratto deve partire dall'esperienza. Qui vediamo un disegno che raffigura Alessandro e Aristotele. Durante una lezione Alessandro va a 13 anni o 15, insomma, a seconda delle datazioni, quando diventa allievo di Aristotele e Aristotele rimane il suo precettore fino a che Alessandro compie 18 anni, secondo alcuni gli rimane vicino fino ai 21-22 anni. Bene, interessante è anche l'uso che del testo scritto viene fatto nella didattica d'Aristotele. Potremmo riassumere nel punto 3, in questo modo, il testo scritto ha come funzione quella di essere un supporto alle lezioni. Più esattamente, i testi acroamatici, acroamatici perché contenevano insegnamenti che erano destinati all'ascolto, c'erano appunti delle lezioni di Aristotele o dei suoi collaboratori, fatte da Aristotele o dai suoi studenti stessi. Erano quindi quelli che noi oggi chiameremo i manuali. I manuali erano un supporto per lo studio. Questo si comprende anche dallo stile, stile che è molto sintetico, molto conciso, con espressioni tecniche, che bada insomma alla sostanza, quindi non troveremo uno stile letterario con metafore, figure rettoriche, abbellimenti e via dicendo. È uno stile che oggi chiameremo manualistico o saggistico. A cosa servivano? Servivano a integrare e a completare la spiegazione e la discussione orale che si effettuava invece nel corso delle lezioni. Oppure potevano essere delle vere e proprie bozze scritte durante la ricerca, una ricerca condotta su un determinato argomento, appunti per la ricerca. O appunti per le lezioni o appunti per la ricerca. Questo disegno vediamo raffigurato probabilmente Teofrasto, che fa una lezione di botanica, perché Teofrasto si occupava anche di queste cose. Uno dei principali collaboratori di Aristotele, che lui conobbe a Mitilene, dicevo, e che era un naturalista, anzi secondo molti anche l'influenza di Teofrasto è dovuto all'interesse naturalistico di Aristotele, e che poi divenne scolarca la morte di Aristotele, cioè il direttore del liceo. Vabbè, è un po' improbabile forse questo disegno, perché qui c'è una donna e non mi risulta che ci fossero donne nella scuola di Aristotele. Ce n'erano in quella di Epicuro, ma non era ancora nata. Ho finito, sono stato troppo logorroico e quindi abbiamo fatto solo l'argomento relativo alla ricerca e all'insegnamento. Salve a tutti!